Giallo attorno alla morte di due persone avvenuta la scorsa notte in autostrada nei pressi di Feglino. Le vittime sono un ex poliziotto e la sua compagna, entrambi di Alessandria. Secondo quanto accertato finora dalla polizia, l'uomo avrebbe ucciso la badante di sua madre, una cubana di 42 anni, nel suo appartamento di Alessandria, avvisando poi dell'accaduto la questura di Genova. Quindi ha preso un'auto a noleggio e insieme alla sua compagna, una 46enne, anche lei di Alessandria, si è diretto verso 20 miglia. Giunti in autostrada nei pressi del casello di Feglino, l'uomo e la donna si sono schiantati in auto e si è subito sviluppato un incendio. Entrambi gli occupanti del mezzo sono morti carbonizzati. Sempre secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato l'uomo ad appiccare le fiamme per concludere così, in modo tragico, la vicenda forse legata a questioni religiose, dovute alla sua appartenenza ad una setta diffusa in Sud America. Un giallo che ha ancora molti lati oscuri da chiarire.